Si tratta di un impianto di autodemolizione che riceveva continuativamente in modo irregolare rifiuti ferrosi da parte di conferitori privati non autorizzati a questo tipo di attività. Per questo motivo sono scattati sigilli per un impianto di raccolta, recupero e gestione dei rifiuti a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Riceveva e poi dopo selezionava e trasformava per il successivo riutilizzo questo tipo di materiale che però deve essere verificato all'arrivo perché appunto sia accertato che la provenienza è lecita. La misura è stata disposta dal GIP Pier Giorgio Ponticelli a seguito di un'indagine svolta dai carabinieri forestali. C'è stato un periodo di osservazione e monitoraggio diretto e indiretto della situazione per verificare appunto se fossero dei conferimenti occasionali o se ci fosse una continuazione appunto di questo tipo di pratiche e questo è stato constatato. Per il responsabile dell'impianto si è così configurato il reato di gestione di rifiuti non autorizzato. Il magistrato Angela Masiello ha chiesto il sequestro preventivo dell'impianto che è stato poi effettivamente disposto dal GIP. Non è il primo caso, già nei primi mesi di quest'anno c'è stato un intervento del genere nella città di Arezzo e non è detto che non ci siano futuri sviluppi per altre attività del genere.